Noi ci vantiamo di essere dei provinciali, ma nel senso più elevato della parola. Evidentemente c'è stato un periodo, proprio negli anni 60-70, grande contrasto tra l'urbanesimo e il villaggio. Quindi la gente di paese veniva vista un po' come la persona azotica, la persona ignorante, la persona chiusa. In realtà il fatto di vivere in una situazione più ristretta e più intimista anche, ti ha permesso di capire quali sono i valori della terra. D'altra parte noi siamo legati alla terra, le nostre origini, inutile negarlo, sono contadine, ma nel termine più elegante e più nobile. Il territorio nel quale ho avuto la fortuna di vivere è un territorio splendido, che oggi è diventato di moda, perché finalmente gli si è riconosciuto un ruolo, anche a livello culturale, perché la terra è cultura soprattutto. Poi c'è un dato di fatto come scuola, noi abbiamo la fortuna ad Alba di avere una scuola enologica che è fra le più antiche d'Italia, fondata nel 1881, quindi per me istintivamente l'unica possibilità che io potevo avere di frequentare un istituto superiore era la scuola enologica, quindi il legame con la terra, il legame con la vita e il legame col vino. Questo legame col vino ti porta a fare delle scoperte sensazionali, perché poi non dimentichiamo il vino lo si consuma mangiando. E qui c'è un altro filone che interviene, quello della cucina. E la cucina, per quanto oggi si parli di modernizzazione, di ingerenze da paesi esterni, noi abbiamo delle radici che sono molto importanti e che stiamo pian piano riscoprendo, anche perché noi abbiamo il dovere di difendere il nostro patrimonio. E questo ci fa capire come certe ricette, anche se nate per la necessità della sopravvivenza, quindi utilizzando dei materiali semplici, umili, addirittura dei materiali che oggi la tendenza è quello di scartarli, nelle Langhe, nel Sud Piemonte, si sono create delle ricette che ancora oggi hanno una valenza straordinaria e uno splendore, perché riassumono in se stesse gli aromi del territorio, le carni del territorio, la cultura del territorio e la storia del territorio. Quindi il riferimento mio verso la cucina e verso il vino è molto stretto e molto impregnante. Oggi poi, per nostra fortuna, è di moda parlare di cibo, tutti ne parlano, parlare di vino, tutti ne parlano, anche se io lancio dei messaggi e dico sarebbe meglio sul vino parlarne di meno, scriverne di meno e berne di più. Ecco, questo non va mai dimenticato. Noi mangiamo per il piacere e beviamo per il piacere. È evidente che nel passato mangiare significava anche sopravvivere, perché erano periodi di miseria, di tristezze e di poche disponibilità economiche. Oggi, per fortuna, le cose sono molto cambiate e quindi possiamo permetterci di andare ancora a scegliere il prodotto che era quasi per essere abbandonato, ma è stato ripreso, proprio perché aveva una valenza storica che caratterizzava quel territorio. Io credo che la professione di chi cucina sia una professione altamente culturale, altamente impegnativa e molto difficile. E sempre di più il cuoco diventa anche personaggio, perché racchiude in sé diverse valenze. E lo stesso è per il vino. Il vino ha avuto un'evoluzione positiva notevolissima. Noi ci diamo arie di vivere un'epoca in cui il vino è veramente migliore rispetto al passato. E questo ci consola. Ma perché? Perché abbiamo applicato delle tecniche che cent'anni fa erano sconosciute. Abbiamo adoperato dei materiali che cento anni fa erano sconosciuti e quindi automaticamente anche la tecnica ci è venuta incontro e ci ha dato una mano per migliorarci. Oggi noi possiamo sfidare qualunque paese del mondo a livello di produzione di vino, così come possiamo competere con tutti per la nostra cucina. La cucina italiana in generale, poi ogni regione per fortuna ha le sue caratteristiche, le sue particolarità, ma noi abbiamo un ventaglio tale di proposte da proporre ai consumatori che è straordinario, sia per i cibi sia per i vini. Questa è la nostra grande forza, che prende spunto dal passato, prende spunto dai territori, prende spunto dalle materie prime e prende spunto dalla stagionalità. Questo è un concetto che dobbiamo rimettere in movimento. Certi prodotti si mangiano solo in quell'epoca, è impensabile mangiare gli asparagi a gennaio perché arrivano dalla California o le fragole a dicembre che arrivano dal Sudafrica. Noi dobbiamo accontentarci, a seconda delle stagioni, di mangiare quanto la natura ci può dare. È molto importante sfruttare questo patrimonio perché noi purtroppo a livello mondiale siamo stati un po' colonizzati da certi vitigni che si trovano dappertutto. I nostri vitigni si trovano solo in Italia, questa è la grande fortuna. E hanno difficoltà a essere esportati perché l'Italia ha diverse ambientazioni, essendo una penisola lunga si va dalle regioni a temperatura più fresca a quelle più calde e ogni contesto ha un vitigno che si è adattato a quelle condizioni e che dà origine a un vino che è completamente diverso. Viva la diversità! Bere un vino che puoi trovare in Argentina, in Cile, in Sudafrica o in Australia, che soddisfazione ti può dare. Noi abbiamo anche una fortuna, noi del mondo europeo, noi viviamo sia la cucina che il vino con la storia, quindi la storia è cultura ed è inutile negare il passato. Il passato è quello che ci permette di andare avanti e di guardare più lontano, ma se noi non avessimo queste radici così forti e così profonde nei nostri pensieri, commetteremmo l'errore di fare patatine fritte e bistecchina, e no, questo può andare bene in certe situazioni, ma diamoci delle arie di avere diversità. Ecco, il termine diversità secondo me è quello che ci deve riempire la bocca e farci proseguire su una strada di piacere. Gallizzo era un personaggio ad Alba, nel senso che lui aveva iniziato la sua attività come farmacista. Poi arrivavano le vecchiette che avevano poca disponibilità di denaro e lui consigliava, invece di comprare le medicine, di andare sul greto del fiume, raccogliere le erbe e farsi degli infusi, delle tisane. E ovviamente a un certo punto ho dovuto venderle alla farmacia perché non riusciva ad andare avanti. E lui si è dedicato all'insegnamento alla scuola enologica di Alba, aprendo un corso dedicato alla liquoristica e all'erboristeria. E quindi lui ha insegnato a un sacco di colleghi miei, enologi e enotecnici, a produrre i liquori. In quell'epoca, anni 60, era di moda il vermouth e poi tutti gli aperitivi che si sono susseguiti. Io l'ho avuto come insegnante nel 1963 ed era un corso molto particolare, molto intrigante e di attesa perché noi ci si incontrava una volta alla settimana, era di lunedì. Al lunedì facevamo tutte le macerazioni delle erbe sotto alcol e solo il lunedì successivo potevamo degustare quella che era la nostra opera e quindi c'era la settimana di attesa. E lui, quello che era importante, si era dedicato alla pittura perché aveva avuto degli incontri molto strani sulla riviera Ligure. Lui andava ad Albisola a villeggiare. Albisola è sempre stata città della ceramica e molti artisti del nord Europa confluivano ad Albisola proprio per eseguire, per lavorare la ceramica. E lui racconta che una sera in un bar sentiva parlare di cobra e per lui, siccome lui era un ricercatore, dice cobra è un serpente velenoso e questi gli hanno detto no, guardi che cobra e l'acronimo Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam. E noi arriviamo da quei paesi lì e siamo degli artisti. Ah, siete degli artisti? E lui tra virgolette si è invaguito di questi pazzoidi, pazzoidi in quel contesto. E ha invitato a casa sua ad Alba Asger Jorn. E Jorn ha vissuto a casa Gallizio, credo per un paio d'anni. Infatti in casa gli ha dipinto le pareti, gli ha dipinto gli sportelli dei mobili. E Alba ha vissuto un momento di grande euforia sotto il profilo artistico, anche se il livello degli albesi era talmente basso che lo prendevano per un pazzo. E lui ha iniziato a dipingere grazie all'ispirazione di Jorn. E si è inventato questa pittura industriale, nel senso che lui comprava delle tele lunghe 100 metri nel suo cortile avanti e faceva questa pittura industriale. E ha creato delle opere, secondo me, molto molto belle, molto significative. Evidentemente lui aveva una personalità fortissima e a scuola era un personaggio affascinante, nel senso che poi lui alla sera ci radunava e ci faceva le conferenze sui temi più disparati. Lui si arrivava lì molto impreparati e lui ci diceva stasera di cosa volete parlare? Allora parliamo degli ittiti, ma io non sapevo neanche cosa fossero gli ittiti. Oppure la settimana dopo parliamo dell'arte gotica. E lui ti intratteneva per due ore con delle argomentazioni brillantissime e divertentissime. E io ho avuto questa ispirazione, nel senso che anch'io ho incominciato a dipingere e ovviamente senza un percorso culturale, io così, istintivamente. E da sempre io ho fatto una pittura molto astratta. Proprio mi veniva istintivo, mi veniva naturale. E ovviamente lui ha fatto molte mostre, poi nel tempo, anche quando è morto, e io ho fatto molti articoli di commento ai suoi quadri. Infatti ero molto amico del figlio, di Pier Giorgio, perché io non sono un critico, ci mancherebbe, però cercavo di mettere in evidenza gli aspetti culturali e umani che questo personaggio aveva. E racconto sempre un aneddoto che è molto significativo. Lui amava ricevere alla scuola enologica di Alba, nel nostro laboratorio, artisti di importanza notevole. E io ricordo sempre che Lucio Fontana è arrivato ad Alba almeno un paio di volte. Ed è stato bello che durante una di queste visite Gallizio dice Martinelli, fagli assaggiare il tuo liquore di rosa canina. Io avevo preparato un'infusione con la rosa canina e Lucio Fontana l'ha apprezzato. E poi, casi della vita, io sono andato a lavorare in Svizzera e tante volte tornavo verso Milano in treno e su un treno, un Trans-Europe Express che arrivava da Stoccolma, la prima persona che vedo era Lucio Fontana. E io molto timidamente mi sono avvicinato e ho detto sicuramente lei non si ricorderà di me, perché di persone ne avrà viste mille, però lei si ricorderà che è venuto ad Alba a trovare Pinot Gallizio più volte. E in un'occasione io le ho fatto assaggiare il mio liquore. E lui mi ha detto sì, veramente, mi ricordo ovviamente di Pinot Gallizio e mi ricordo di quel liquore particolare. Quindi io ho avuto questa benedizione culturale, artistica, chiamatela come volete. E per me è stato molto bello continuare a seguire, non dico lo stile di Gallizio, nel senso che anch'io propongo la pittura industriale. Dipingo tele molto grandi che poi vendo a pezze. Io credo che anche a livello artistico sia bello vedere l'artista quando lavora o sentire quello che dite, perché è sempre una crescita, è sempre un qualcosa che si apre e che si sviluppa. Anche se poi a volte siamo anche timidi nel comunicare, perché sembra sempre di dare degli input prepotenti. Io non mi sento mai di… non so, per esempio nel campo del vino io dico, io l'ho fatto questo vino, però è il vino che parla, non devo stare io lì a descriverlo, è nell'opera d'arte, è l'opera d'arte lì, e tu te la guardi, te la giri, te la pesi, te la… poi alla fine decidi. Ma io è inutile che ti stia a raccontare il mio travaglio, perché c'è anche un travaglio, no? Ma a volte è anche difficile da esternare e da spiegare. Ma io dico che il produttore tendenzialmente deve, tra virgolette, accontentarsi di quello che riesce a produrre. Quindi l'artigiano non può pretendere improvvisamente di aumentare, di fare di più. Si deve accontentare, ma si deve accontentare nel modo corretto, nel senso che se io ho una vigna che produce 100 litri di vino, perché devo farne 300? E lo stesso se io ho un branco di pecore che mi danno il latte per fare 50 formaggi al mese, non devo incrementare. Devo far capire al consumatore che quel prodotto lì è unico, raro e che a un certo punto finisce. Ecco, questo concetto del finire, ma secondo me è molto positivo, perché ti aumenta il desiderio di riuscire ad accaparrarlo. Quindi c'è anche una corsa alla ricerca. Oggi abbiamo anche i mezzi culturali per capire di più le cose, abbiamo la possibilità di spostarci facilmente, non è come una volta. Quindi anche andare alla ricerca dei cibi e dei vini, diventa uno stimolo per scoprire meglio e di più l'Italia. E l'Italia in ogni angolo ha dei tesori nascosti, che aspettano solo il momento di essere messi in evidenza. Però se vogliamo mantenere l'integrità di quei prodotti, quindi la loro naturalezza, tra virgolette la loro genuinità, la loro serietà di produzione, dobbiamo capire che di più non se ne può avere. E quindi bisogna cercare di arrivare al momento giusto per godere di quel prodotto giusto. No, non so Antonio, se posso usare. Io ho una specie di diario dipinto, no? Se ti interessa vedere. Quello con la copertina verde. Sono le mie opere degli anni 60, 90, porca mia idea. Dal 67 al 68. Ma io salto di palo in frasca, dipende da come dormo. Noi dobbiamo esaminare delle fasi che sono fasi storiche legate ad esempio, siamo venuti fuori dalla seconda guerra mondiale con il paese disastrato e pian piano c'è stata una lenta ripresa e uno scrittore di cose gastronomiche, Massimo Alberini, ha descritto l'evoluzione della cucina italiana chiamandola la neocucina regionale italiana, nel senso che noi abbiamo attinto molto dall'estero perché in quel momento a farla da padrone era la cucina internazionale e noi abbiamo vissuto l'epoca in cui tutti i piatti erano conditi con la panna e tutti i piatti di carne erano accompagnati dalla rucola, quindi dalle Alpi alle piramidi, cioè dalle Alpi alla Sicilia la rucola la faceva da padrone assieme alla panna. Ma perché? Perché noi volevamo dimenticare i tempi bui, i tempi di miseria. Poi pian piano c'è stata una ripresa culturale soprattutto e abbiamo avuto il coraggio di andare a riprendere anche le materie prime povere. Pensate alla polenta, la polenta nel nostro contesto è sinonimo di povertà perché i contadini di Langa la polenta la mangiavano a colazione, a pranzo, a merenda, cena. Era il piatto che percorreva tutti i giorni e quindi nel pensiero e nell'intelletto c'era quasi un rifiuto a mangiare la polenta. Oggi invece si è capito che la polenta è un piatto storico e quindi va, se volete, rivisitato. Ma rivisitare cosa significa? Significa che invece di condire la polenta con l'acciuga la condisci con un pezzettino di burro, ma ne basta poco perché il burro di montagna delle nostre montagne ti dà una saporità che è completamente diversa. Quindi c'è un'intelligenza da parte di chi fa cucina per rivalutare mettendo in evidenza ma senza pesantire troppo. Non so, oggi si parla tanto di rifiuto a mangiare l'aglio perché poi si dice l'alito. Io fossi il governatore della regione Piemonte e stabilirei giovedì aglio. Quindi se tu non l'hai mangiato peggio per te. Piemonte 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 Ma io ho sempre avuto il pallino innanzitutto della lettura perché ritengo che la lettura sia basilare per capire le cose. Oggi è vero che esistono dei mezzi di comunicazione molto rapidi, non so neanche io come definire, però per me il piacere della carta è un'altra cosa. Sfogliare un libro, anche l'odore del libro è diverso. Io ho scritto questo libro sul Barolo tanti anni fa e ho voluto proprio chiamarlo Il Barolo come lo sento io, per evitare equivoci, perché percorrere delle strade che già altre hanno percorso non era nel mio stile. Infatti io oltre a parlare del vino ho parlato di tutto quanto c'è attorno al vino, quindi ho parlato dei panorami, dei paesaggi, ho parlato della storia perché c'è una storia profonda e ho parlato del territorio anche sotto l'aspetto gastronomico, perché alla fine di tutto, come già ho detto, il vino lo si beve a tavola e bevendolo a tavola ti vengono fuori delle sensazioni e dei pensieri e delle eccitazioni che sono completamente diverse. Ecco qui per esempio c'è un quadro, non so se riuscite a vedere, di Pinot Gallizio e si chiama La Sborgna a Verduno, perché anche qui vedete è vero che il vino andrebbe bevuto con moderazione, però ogni tanto bisogna anche avere il coraggio di lasciarsi andare, perché dobbiamo vincere quelle che sono le inibizioni, i freni, dobbiamo sentirci anche un po' noi stessi. È vero che il vino è interpretato in maniera diversa, c'è gente che se ne beve troppo diventa triste e malinconica, c'è gente che diventa cattiva, teniamoci a una via di mezzo, riteniamoci allegri, proprio perché l'alcol ti ha dato quella forza in più e quel coraggio in più. Il vino di per sé, c'è un vecchio proverbio che dice non è il vino che ubriaca, ma è l'uomo che si ubriaca, ecco su questo dovremmo anche un po' riflettere. E quindi il vino va sempre visto come quella componente di piacere che ci rende le cose più simpatiche, più attraenti e più divertenti. Ovviamente il vino entra anche in cucina, nel senso che molti cibi vengono cucinati con il vino, ma anche questa è una considerazione da fare sotto il livello della praticità. Una volta nella casa la donna doveva accudire a tutte le funzioni, quindi doveva riassettare le camere, preparare il mangiare, stirare, insomma aveva molte occupazioni da fare. E allora tante volte, non avendo il tempo materiale di seguire la cottura rapida, preferiva prendere un tegame, mettere il pezzo di carne annegato nel vino con tante verdure, nell'angolo della stufa il cibo cuoceva lentamente, il vino si consumava e lei nel frattempo aveva tempo di fare tutte le altre cose. Quindi noi abbiamo una cucina che sotto certi aspetti è anche molto impegnativa perché è una cucina dal carattere forte. Infatti in Piemonte noi abbiamo mai bevuto il vino bianco, il vino bianco non esiste, il vino bianco è un'invenzione moderna. Per noi il vino era rosso perché doveva accompagnare dei cibi molto sostanziosi e molto complessi. Ecco questa è la nostra profonda realtà. Poi le cose sono cambiate, c'è stata un'evoluzione e anche noi mica siamo sciocchi, se il mercato ti richiede del vino bianco perché no? E allora anche qui abbiamo riscoperto dei vecchi vitigni che erano praticamente quasi dimenticati come l'Arneis, soprattutto nella zona del Roero e questo Arneis sta riscuotendo molto successo perché è un vino fruttato, è un vino delicato, è un vino piacevole. Va anche detto che le nostre colline per la loro genealogia, per la loro composizione sono adatte a qualunque tipo di vitigno, quindi noi abbiamo la fortuna di essere il paese benedetto da Dio per quanto riguarda la viticoltura e di conseguenza per l'enologia e quindi noi possiamo produrre qualunque cosa, ma noi siamo affezionati a questa storia antica per cui per noi il vino è rosso. Ecco, la formazione degli archetti è una questione tecnica abbastanza riservata agli esperti, nel senso che facendo girare il vino nel bicchiere, vedete che sulla parete del bicchiere si formano quelli che appunto si chiamano gli archetti e le lacrime, che stanno ad indicare l'alcolicità del vino, archetti stretti una buona alcolicità, archetti larghi una alcolicità inferiore, ma il vino non è fatto di alcol, il vino è fatto soprattutto di aromi, la bellezza di un vino è nel suo naso, infatti nella degustazione, almeno dal mio punto di vista, per me è sufficiente annusare per capire se un vino è buono, non ho bisogno di metterlo in bocca. Anche noi abbiamo iniziato a coltivare dei vitigni cosiddetti internazionali, ad esempio nel campo del Bianco abbiamo coltivato molto Chardonnay, Sauvignon e Riesling, nel campo dei rossi abbiamo coltivato il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Cabernet Franc, però noi siamo affezionati ai nostri antichi vitigni, perché i nostri antichi vitigni hanno radici che vanno indietro nel tempo, quindi il Dolcetto è citato per la prima volta in un documento di Dogliani del 1522, il Nebbiolo è citato in un documento del 1200, la Barbera è citata in un documento del 1300, quindi noi abbiamo delle radici molto profonde. Anche il Moscato, che è l'unico vitigno a frutto bianco importante, dando origine a un vino dolce, il vino della festa, anche il Moscato ha una citazione che risale al 1500, quindi noi non possiamo rinnegare queste nostre radici e questa nostra storicità, per noi è troppo importante. Il Barolo Chinato nasce dai farmacisti, nel senso che erano tempi in cui le malattie si combattevano anche con il vino e il Barolo Chinato è semplicemente l'invenzione di mettere in infusione nel vino la radice della china calissaia, che è un'amaricante e si pensava, ma lo si pensa ancora oggi in certe situazioni, che la sostanza amara sia utile per combattere le malattie. I farmacisti hanno codificato la formula del Barolo Chinato, oltre ovviamente alla china calissaia ci sono altre sostanze che vengono messe e un tempo veniva utilizzato come digestivo, oggi addirittura lo si può proporre come aperitivo e non va dimenticato che il Barolo Chinato è molto buono ad accompagnare il cioccolato. Sappiamo tutti che il cioccolato è un prodotto difficile da abbinare ai vini, ecco, con il Barolo Chinato il matrimonio diventa un matrimonio d'amore. Bevevano moltissimo. Bevevano in una maniera diversa. Molto diversa. Innanzitutto avevano probabilmente dei vini più alcolici, soprattutto i vini di Falerno, Mamertino, eccetera. E quindi per evitare che l'ubriachezza arrivasse in tempi rapidi diluivano con l'acqua. Addirittura facevano delle infusioni con delle erbe. Non so, in Grecia la tradizione di fare il vino resinato. La resina mascherava eventuali difetti, quindi chi beveva non si rendeva conto che il vino fosse cattivo. I romani sicuramente hanno valorizzato soprattutto la coltivazione della vite. Lì sono stati molto bravi. Infatti nel loro disegno di espansione nell'impero, al seguito delle legioni, viaggiava sempre la vite e che veniva coltivata solo dai cittadini romani. Le popolazioni assoggettate, se avevano i mezzi economici, potevano bere il vino, ma la produzione era in mano loro. Quindi avevano già lanciato un'idea di monopolio, se volete, molto intelligente. Ovviamente Roma è stata importantissima, perché grazie ai romani la vita è arrivata in situazioni anche estreme. Pensate, così raccontano, attorno a Londra era tutto un lussureggiare di vigneti. Anche perché coltivando la vigna sul posto di consumo si evitava il rischio del trasporto. Perché i trasporti non è come oggi, quindi con dei carri con le anfore, oppure pensate per nave. Navi, erano barche lunghe di qua e là, che più delle volte affondavano. Infatti ogni tanto sui fondali si scoprono queste anfore piene di vino o di olio, insomma. Vedete, nel passato la produzione del vino era legata alla casualità, alla bontà degli dèi, alla luna, al sole, al vento e alla pioggia. E oggi noi sappiamo che c'è una scienza che si chiama scienza enologica, però è molto curioso il fatto che la bevanda vino sia antica di almeno 10-15 mila anni. Il primo scienziato che ha studiato il vino è stato Louis Pasteur nel 1835, quindi una miriade di tempo senza sapere nulla. Improvvisamente è la scienza che ci dà delle spiegazioni. E poi l'attrezzatura. L'uso dell'acciaio inossidabile in cantina ha veramente rivoluzionato l'igiene del vino, perché essendo una bevanda va trattata in maniera igienicamente irreprensibile. Noi abbiamo questa grande fortuna di vivere l'epoca in cui il vino è assolutamente migliore. Ma ne siamo consapevoli, perché in realtà facendo degustazioni, perché nel vino bisogna essere molto curiosi e non ci si può fermare al vino del proprio territorio o al vino delle tradizioni di famiglia. Bisogna avere il coraggio di spaziare. E vi posso assicurare che trovare vini mediocri o cattivi è molto difficile. Un tempo invece, purtroppo, erano vini pieni di difetti, pieni di acciacchi, pieni di non si sa cosa. Oggi c'è un'attenzione maggiore e quindi, ripeto, siamo fortunati perché viviamo l'epoca del vino buono. Non so se ne ho parlato, ma per esempio in Piemonte nel 1700 c'era un consumo pro capite di 240 litri per persona, che è un dato molto significativo. negli anni 60, 1960, l'Italia consumava 120 litri per persona. Oggi, 2010-2015, consumiamo 40 litri. Quindi c'è stata un'impennata in basso spaventosa. Ma ci sono degli elementi che giustificano questo calo del consumo. Una volta c'erano le famiglie patriarcali, ci si trovava, il pranzo era sacro come la cena. C'era il nonno, c'era lo zio, il nonno educava il nipotino a bere un goccio di vino e quindi si beveva. E poi va anche detto che il vino sosteneva chi faceva lavoro fisico. Oggi con questo lavoro, tra virgolette, più intellettuale, con degli intervalli di mezz'ora per fare il pranzo, voi capite che chi lavora in città, la pausa pranzo, beve un bicchiere d'acqua e si beve e si mangia un'insalata. Insomma, ci siamo un po' ridotti. Noi in campagna manteniamo ancora la sana abitudine di bere. Ma noi perché viviamo la tradizione? Ecco, quello che ci blocca è che noi abbiamo vissuto il vino in un certo modo e siamo fissati che quella sia l'idea giusta. Per gente che non ha mai bevuto il vino, io penso ai paesi del nord Europa, a loro che arrivi da un cartone o che arrivi da una lattina cambia poco. D'altra parte se pensate a tutte le bibite in lattina, a tutte le birre in lattina, perché non il vino? È evidente che un barolo non andrà mai in una lattina, questo ci mancherebbe, è anche una questione d'immagine, no? Però per la comodità potrebbe anche andare. Nasce questo come un contenitore dove mettere un po' tutto il contrario di tutto e ci siamo abbastanza riusciti, perché noi siamo un po' tutto il contrario di tutto. Sì, sì, è stato tutto un collubio molto intrigante che è venuto su da solo. Ripeto, l'idea era quella del contenitore. Perché? Beh, intanto c'è da dire che non siamo proprio giovanissimi e allora uno accumula, accumula, accumula idee, accumula esperienze, finché a un certo punto si esplode da qualche parte e bisogna metterle. E allora l'idea è stata proprio questa. Erano talmente tante. Dico, vabbè, cominciamo a fare l'imbolcro di questa cosa qua. L'abbiamo trovato così, no? E quindi a un certo punto ecco che è arrivato il momento della ristrutturazione, dell'arredamento. Siamo seguendo quelli che erano i miei sogni, ma anche i suoi. No, ma vincerà anche i pregiudizi di quelli che ti dicono io nella mia vita ho sempre bevuto il vino che ha fatto mio padre, ma tuo padre è una persona egregia, però apriti agli orizzonti, sii curioso, cerca di capire che c'è anche del resto, insomma. È come dire che l'arte esiste solo in Grecia, insomma. L'arte esiste dappertutto. Dove c'è l'uomo c'è l'arte, quindi dove c'è un uomo intelligente, c'è la capacità di capire che ci sono dei vini che sono buoni. Posso essere sbragato? Sbragliato. 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 Sbragliato.